Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Prodotti che partono da 9,90 Non toccheranno a tutti E a maggio facciamo la festa dei bambini Addirittura con i gonfiabili fuori dal bottegone Vero Fede? Ma te cosa hai visto qui? Ho visto tante grandi promozioni Il reparto In grandito dei bambini Guarda È quasi un pacco giochi Perché io ti porto via dal 33 Che è il tuo numero Se no me le prendi tutte te Se hai Meno male c'è una saccoccia piccina nella bicicletta Altrimenti riempivi la balla come faceva nonno Giuseppe Allora andiamo nel reparto nuovo a bambini Vedete? Da qui iniziano il 34 Così mi salvo Abbiamo tutti gli altri 32 metri Tutti gli altri prodotti Che continuano in questo reparto Altri 30 metri di esposizione Perché nel normale esposizione Che da 20 anni avevamo È già grandissima E non c'entravano quest'anno Tutto un nuovo reparto da bambini Dove abbiamo esposto? Anche questa Grande promozione È certo L'ha già subito vista E l'ha presa subito E poi con la scusa che l'hai usata in bicicletta Le prendi Anche questa è molto morbida Sempre della Grulland fra l'altro Sì Qui abbiamo tutti i sandri tedeschi della Grulland E sono solamente primarini Molto leggera Guarda Federica queste qua E colorata Quelle con la scatola verde e arancio Tutti i sandarini estivi Che sono arrivati Sì Tantissimi modelli Anche di altre marche L'abbiamo di questo tipo Un infrapollice Sandro l'infrapollice fucsia Eh non ti manca l'occhio giusto Sandalino E di chi è questo sandalino? Non è di Federica Amagozzi Ma di chi è questa marca? La riconosci questa farfallina? Lelichelli No È una marca simile Abbiamo anche la Lelichelli La farfallina è della Lu Ah Lulù Eh della Lu Con i loro regali In questo caso è un zuccolino col tacco Che Federica Scicchetto l'ha già preso Allora abbiamo un modello bianco Col tacchetto Lo zuccolino Oppure c'è i denti uguali rosa Vieni Fede Facciamo vedere anche questi qua da maschietto Perché altrimenti i maschi Ci brontolano Ci brontolano Abbiamo tutte le calzature dell'asso Maschio e femmina Maschio e femmina Tutte le calzature XTI Ma io vedo prezzi bomba A partire da 9,90 euro Trovate una calzatura per esempio come questa Anche per Federica Un ginnico sportivo dell'asso A partire da Guardate bene Costavano 44 euro La trovate a 9,90 euro Non a tutti toccano Perché vi ho detto Vi abbiamo detto insieme a Federica Che a maggio Abbiamo ingrandito il reparto Poi a maggio cosa facciamo Fuori dal bottigone Ci sono anche i confiabili Giore picnic E come in più Se non bastasse Anche per i grandi e i piccini Sì i confiabili per tutti chiaramente E prezzi bomba Oltre all'assortimento È veramente eccezionale Prezzi bomba Non a tutti toccano Abbiamo tanta gente Qui al bottigone A acquistare Tanti troveranno anche a queste occasioni I prezzi bassi Comunque di tutte le aziende Ma più che altro Anche troverete Questi prezzi molto Molto bassi Ma non è finita Vieni bene Federica Fagli vedere anche altre cose A maggio Troverete anche me A servire Giusto Certo I bambini I bambini stanno bene con i bambini Vi abbinate bene E vi consigliate al meglio Guardate quante ballerine Quante scarpe della Geox Comunque avete capito bene A maggio dovete venire Dove Federica Al Bottigone Della cassa Allora La rossi di ricciola Perché è il mese dei bambini È un mese eccezionale È un mese bello Pieno di primavera Nuovo reparto Ingrandito da bambini E fuori dal bottegone Giochi veramente Per divertirsi Tutta la famiglia Scarpi per la famiglia All'interno In particolare Scarpi per la bambina A prezzi veramente bomba A partire da 9,90 Vieni Fede Si va in un altro reparto Ciao 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 Sì 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 Grazie a tutti